Il cordoglio mio e del Governo per la morte della giovane Luana Dorazio. Noi poniamo la massima attenzione, dobbiamo evidentemente fare di più perché continuano a succedere, è incomprensibile, sul tema della sicurezza dei luoghi di lavoro. E questa attenzione è particolarmente necessaria in una fase di riapertura dell'economia. Grazie a tutti.